Intimazione di pagamento di agenzia dell'entrata e riscossione. Domanda importantissima. È possibile impugnarla? Ebbene sì, eppure sono ancora tantissimi i professionisti che dicono ai propri clienti che non è possibile impugnare l'intimazione di pagamento. E così l'unica soluzione che propongono è quella di ratezzare il debito o comunque di pagare integralmente. Con questo voglio dirti che invece è possibile impugnare l'intimazione di pagamento di agenzia dell'entrata e riscossione, la ex Equitalia, e aggiungo molto spesso si possono riscontrare tantissimi vizi che possono permettere di ridurre in maniera importante il debito sottostante l'intimazione di pagamento, fino anche arrivare ad eliminarlo completamente. Aggiungo che se ci sono le condizioni è possibile utilizzare determinate strategie legali per bloccare immediatamente l'attività di agenzia dell'entrata e riscossione, perché qualora tu non dovessi riuscire a pagare l'intimazione di pagamento o comunque a ratezzarla, al sesto giorno potrebbero partire le azioni esecutive, quindi pignoramenti del conto corrente o anche pignoramenti dei crediti verso clienti. Grazie a queste strategie invece è possibile bloccare, almeno per un determinato periodo, l'attività di agenzia dell'entrata e riscossione.